Pasta al forno veloce con le zucchine. Taglia le zucchine a fettine. Sala l'acqua, metti a cuocere la pasta e dopo poco anche le zucchine. Scolale insieme, aggiungi il parmigiano, besciamella, mescola, versa in una teglia, ancora parmigiano, un giro d'olio e via in forno. Sforna, prendi, metti nel piatto, prova e assaggia. Buona!